Sara, Papa Largo, Audio Guardi, Ilenia Federico, Katia Sindoni, Sino Lodrasco, Applausi, Passario Venuti, Patrizio Corazzolo, Adriano Russo, Meri Cambria, Alice Greco, Loretani Ferreira, Sara Salvi, Marti Invesi, Paolo Invesi, grazie. Volevo presentare anche il gruppo che è qua alle mie spalle, al basso Doni Farsaci, alle tastiere Nello Currò, alla batteria Stefano Sgrò, al sax Pano Casella. Un ringraziamento al Comune di Rometta, al Sindaco per averci dato questa grandissima occasione, ci vedo un salto presto, grazie a tutti, vi voglio bene, grazie. Allora, mentre i tecnici liberano il palco, ora c'è anche un...